L'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA ha deciso, in via precauzionale, di emettere un divieto di utilizzo dell'otto ABV 2856 del vaccino AstraZeneca, dopo, tra l'altro, la morte di un militare in servizio ad Augusta nel Siracusano. Stefano Paternò, 43 anni, originario di Corleone, ma residente a Mister Bianco in provincia di Catania, per arresto cardiaco in concomitanza temporale con la somministrazione del vaccino. Il militare, il giorno precedente, si era sottoposto alla prima dose di vaccino AstraZeneca, dello stesso lotto a cui fa riferimento l'AIFA. Sul caso, la procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia. L'assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, ha convocato ieri pomeriggio una conferenza a Palazzo d'Orlean. «Ho parlato con il ministro Speranza», ha detto Razza. «Lo stop riguarda solo questo lotto e comunque sono stati chiesti ulteriori approfondimenti ad AIFA e all'EMA». Sono circa 500.000 le dosi contenute in ogni lotto del vaccino AstraZeneca. Dosi del lotto ABV 2856 sono state distribuite in Sicilia e in altre regioni italiane. Delle 500.000 in Sicilia ne sono arrivate 20.500. Di queste ne sono state somministrate 18.194. Delle rimanenti 2.306 dosi, a seguito della decisione dell'AIFA, è stata sospesa la somministrazione. Le dosi somministrate sono 1257 in provincia di Agrigento, 932 a Caltanissetta, 2533 a Catania, 1038 in provincia di Enna, 2849 a Messina, 3497 a Palermo, 1457 a Ragusa, 1097 a Siracusa, 2516 a Trapani. .